Ciao ragazzi! Per festeggiare i 400.000 iscritti del canale GPR Non abbiamo pensato a un'intervista doppia Abbiamo pensato a un'intervista quadrupla Ediva! Come ti chiami? Niccolò Atilbe Alessandra Davide Qual è il tuo soprannome? Oniclio Cocò Mattia Mozzicula Ale Mi sono reso conto che non ho soprannome Quanti anni hai? Sei Quasi te 38 Anch'io 38 ma 4 mesi meno di te Un po' meno Sì Dici il tuo colore preferito? Rosso Ova Blu Il giallo E qual è il tuo cartone preferito? Ninjago Netsonite Dotti Ladybug Ladybug anch'io A cosa ti piace giocare? Lego I baldi Lego tutta la vita LOL Surprise Tututututututu Mare oppure piscina? Piscina Piscina Mare Io e l'acqua non andiamo molto d'accordo Però la piscina E il tuo libro preferito qual è? Erano scritto Peppa Harry Potter Forever Sono romantico Orgoglio e pregiudizio Lo adoro Canta la sigla di un cartone Ninjago Ninjago Come on Come on Nananica Win Basta Dona me Desiderio Le voglio te Miracolos Se lotta con me Il male si deve arrendere Non incideremo mai una canzone E credo di no Fai una posa da ninja Fai una posa da principessa Io da principessa Io da principessa Qual è la tua LOL Surprise preferita? Tu bel BB And it's safe Dawn E' così carina La mia Splash Queen E' la mia ultra rara del cuore Adesso bevi qualcosa Anche qualcun altro La stava aspettando Qual è il tuo frutto preferito? Mango Ma l'hai mai mangiato il mango? Non mi ha mai mangiato il mango? Va bene E' un cagolina Anguria E' grandissima la tua anguria Ale Arancia Vai a scuola? Si Vado a scuola dei piccoli Eh si E' perché fai la prof E' facile No Ho finito tutte le scuole dell'universo Fai una boccaccia Manda un bacio Preferisci pizza o patatine? 2, 3, 2 2, 3, 2 Pizza, pizza Patatine Dici che cosa mangi a colazione? E' un latte al cioccolato Torta della nonna E biscotti Tè Biscotti Torta della nonna Bevo il tè La bustina me la mettono Nicola e Matilde Quindi scelgono loro il gusto La torta della nonna E i biscotti da tocciare Il gusto di gelato preferito? Ciocomenta Cioccolata 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 sempre E' vero Mangia sempre cioccolata Ultimamente Forresta Nera Prima invece è Pistacchio Qual è l'applicazione che usi di più sul tuo tablet? Cosa di lodo della Disney Nella Youtube E Youtube anche io Qual è il video GBR che ti è piaciuto di più girare? La caccia dell'uomo al buio La caccia dell'uomo in pioggia Al parco zoo Tutti assieme Bellissimo E' stato proprio bello un sacco di animali Il Draw My Life per i 300.000 iscritti Mi è piaciuto un sacco Ripercorrere tutta la nostra storia Anche quando ci siamo sposati Che pigiama hai messo stanotte? Le pesci con lo squalo Prima di Minnie Wonder Woman Dai io ho messo Batman Il tuo supereroe preferito? Iron Man Ladybug Ladybug Io come da mio pigiama Batman Qual è la tua principessa del cuore? Merida Certo Ariel Ariel anch'io Ale E' la mia preferita L'adoro Dimmi una parola che non esiste Gobbo Prova a prendere al volo Un rotolo di carta igienica Ah preso Brava Che colpito Fai un capriccio Voglio la cioccolata Anch'io voglio la cioccolata No è mia È mia? Vai vai via Da ciò che ho imparato A fare i capricci così Guarda in su Ci mostri il tuo peluche preferito? Mickey Minnie Ta-dan Me l'ha regalato Davide Sì io Il mio Winnie Pooh in versione invernale Lui sta accanto a me del mio comodino Fai una cosa paurosa Cucciola lui E il tuo animale preferito qual è? La tigre E il mio elefante Delfino Pantera Mettiti una maschera Forkla Tentra Io faccio il principe azzurro Ladybug Sconfiggia il male Ma sconfiggia il male Assera a sciannuarmi Lady Ma sì gattino Ma sì Adesso saluta Metti un pollicione Di solito giochiamo ragazzi Ma ci siamo divertiti un sacco A fare questa intervista Speriamo sia piaciuta anche a voi ragazzi Per questo incredibile traguardo Perché siamo Ale la famiglia Più giocherellona di Youtube Vi vogliamo dire un grande Grazie E se volete anche voi ragazzi Entrare nella famiglia GBR Iscrivetevi al canale Youtube E scaricate l'applicazione GBR Sul vostro smartphone Ciao 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 Ciao